non ci vediamo ma non si può togliere lo schermo no ma butta la via sta roba scusa benvenuti ragazzi questo nuovo vlogz quest oggi che è il 16 dicembre 2000 e mai stiamo andando al christmas comics esatto quell'evento si tiene vicino a natale e non sappiamo com'è perché non ci sono mai stati mai stati mai stati non ci sono mai stati quindi noi due noi io comunque vedrete un po di qualcosa tipo funetti videogiochi gente youtubers forse da lontano perché non ho voglia di fare la cosa dovrebbe essere anima ma il rispetto non è tempo ci basta il corpo l'animale lasciamo lasciamo vagare ciccia non si vedrà niente molto contro luce ciao 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 Poi vorrei le auto da Formula 1, non queste catapecchie Catapecchie, Lamborghini, Ferrari Cosa pensi della gara? Io penso di aver guidato bene, non fantasticamente ma bene E' arrivato quello della Lamborghini, se avete visto, io fai un assassino Qui che ha le curve, tirava dritto, poi usciva fuori sderi e andava dopo la scarenata di gara Una bella recensione Arrivavo terzo Grazie, grande Manu Questa è un po' con la Yuri Picasso Io voglio bene a tutti e soprattutto che ci produci questo altro Ci vogliamo bene, via! Ehi, sembra che la donna è leggera Cosa? Oddio E' leggero, dicevano Bevo l'alcol Bevo l'alcol E' buono E' buono? E' buono? E' buono! E' buono! Siamo usciti dal Christmas Comics perché, boh, alla fine era un po' piccolo, non c'era tanta roba Esatto Abbiamo incontrato gente Abbiamo... ho giocato E adesso facciamo un giro qua all'ingotto che è appunto a fianco, anzi in realtà è nello stesso complesso del Christmas Comics Esatto E vediamo se c'è qualcosa di interessante e poi cicciano Bella E' buono Bene gente, bene gente, anche questa giornata è giunta al termine Bene Bene, se vi ho detto ciò vi invito a lasciare un bel like Un bel commento, iscrivetevi al nostro canale, vi raccomando, spettateci, occhio al palo E noi ci vediamo al prossimo video Ciao palo E noi ci vediamo al prossimo video ragazzi Ciao ciao Ciao